Ciao anime amanti del mistero, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi un video totalmente diverso da quelli che faccio di solito, infatti oggi mi sono seduta qui per raccontarvi alcune delle mie esperienze paranormali. È tantissimo tempo che voglio realizzare questo video ma per diversi motivi non l'ho mai fatto e siccome siamo nel mese del mistero del paranormale e ci stiamo avvicinando sempre di più ad Halloween, penso che sia il momento perfetto. Premetto che non ho preparato assolutamente nulla per questo video, semplicemente mi sono seduta qui, ho acceso la videocamera e ho detto proviamoci. Perché dico proviamoci? Diciamo che ho avuto dei momenti in cui, devo dire la verità, non sapevo come raccontarvi le mie esperienze paranormali, proprio per un discorso che all'interno delle mie esperienze paranormali ci sono delle persone che non voglio e per certi versi non posso nominare. È vero anche che potrei usare altri nomi e altre cose ma vi posso garantire che preferisco di no. Detto questo ho un sacco di esperienze paranormali, amici, ne ho davvero tantissime. Non sono storie lunghe, storie come ad esempio siete abituati a sentire di altre persone, sono per lo più esperienze. Allora partiamo subito col dire che le mie prime esperienze sono partite già quando io ero una bambina. Diciamo che sono sempre stata una bambina più curiosa rispetto ad altri, anche se tendevo a lasciar perdere perché comunque era appunto era una bambina, non sapevo proprio nulla di questo mondo. In conseguenza tutto ciò che sentivo, percepivo, lo lasciamo andare semplicemente. La mia prima esperienza assurda paranormale e mi ha spaventato tantissimo tra l'altro perché avevo all'incirca 5-6 anni. Mi trovavo a casa, me lo ricordo ancora, avevo la febbre. Quel pomeriggio io ero a casa non proprio da sola ma ragazzi io mi ricordo che ero a casa da sola e non è una cosa fattibile perché avevo cinque anni, è impossibile che io ero da sola. Sicuramente qualcuno di voi starà pensando siccome avevi la febbre, siccome eri piccola magari potevo ingigantire le cose, mi sono immaginato un qualcosa che non esisteva. Ragazzi siete liberissimi di credere a quello che dico, non crederci. Il fatto sta che io me lo ricordo benissimo, cioè se io ora mi metto qui e penso a quel momento e com'è che l'ho vissuto ieri, è talmente nitido e credetemi sono pochi per me i ricordi nitidi a quell'età perché veramente tantissime cose non le ricordo ma quello non l'ho dimenticato. Mi ricordo che mi trovavo sul divano, ad un certo punto mentre guardavo i cartoni animati, me lo ricordo pomeriggio, ho iniziato a sentire una voce dietro di me che continuava a sussurrarmi all'orecchio, io ero tipo sdraiata, mi sentivo sussurrare all'orecchio i nomi di tutta la mia famiglia. Più stavo lì ad ascoltare e più queste voci aumentavano di volume, li sentivo sempre più forti. Il fatto sta che io mi sono spaventata da morire, raga, pensateci al buio, perché mi ricordo che ero al buio, c'era solo la tv e poi mi sembra che era più o meno questa stagione che fuori il pomeriggio era già buio quindi sarà stata le quattro e mezza, cinque e quindi io avevo solo la tv accesa ed ero praticamente al buio, che tono aveva, che voce femminile e maschile non mi ricordo, so solo che era terrificante, terrificante. Lì per lì non sapendo cosa fare, agitatissima perché ero agitatissima, c'è immaginato una bambina di cinque anni che sente questo, vabbè. Comunque la prima cosa che mi viene da fare è prendere, avevo la coperta, mettermi sopra la coperta come fanno tutti i bambini, mi metto questa coperta addosso e dormo, cioè io praticamente il mio ricordo finisce così, io mi metto questa coperta e crollo in un sonno profondo e non mi ricordo più, cioè basta, è finita lì, quella è stata la mia prima esperienza, come ho detto sicuramente uno può pensare avevi la febbre alta, eri piccola, chissà cosa hai immaginato, vabbè ragazzi, fatto sta che per me è stata un'esperienza terribile, cioè io ad oggi che ho 33 anni mi fermo e penso a quella scena a me piccolina cinque anni, sei anni, cioè io mi ricordo tutto, le sensazioni che vivevo, troppo vere per essere stata solo un'immaginazione. Ecco questa è stata una delle mie primissime esperienze particolari, crescendo diciamo che mi sono sempre interessata sempre di più a questi argomenti, a queste storie, sono sempre stata affascinata dal mondo del paranormale, del mistero, tutto quello che insomma che riguarda questo mondo. Io sono sempre stata contornata dal mondo spirituale ed esoterico, anche se non mi è mai stato concesso di approfondire, di sapere, quindi diciamo che l'ho sempre vissuta in secondo piano, ok? Sempre solo guardato da lontano, senza poter entrare, interagire, ok? E soprattutto capire. Detto questo è capitato diverse volte di trovarmi in situazioni parecchio spaventose. Spaventose perché? Perché è risaputo che nel mondo comunque dell'esoterismo, della spiritualità, ci sono comunque delle regole, delle regole, comunque delle cose da fare in modo corretto e se queste non vengono fatte ci sono dei rischi, ad esempio i tarocchi, la tavola ouija, ecco tutto ciò che vi viene in mente, mi sto riferendo a quello. Se comunque queste pratiche non vengono effettuate a dovere, appunto si rischia di trovarsi in situazioni parecchio disperate, ok? Diciamo così. Mi è capitato diverse volte di vivere situazioni parecchio difficili. Difficili perché? Perché ti trovi in una situazione dove non sai gestirla, ovviamente. Se io non conosco una cosa non posso sapere come gestirla. Ecco perché vi dico sempre, se tu vuoi provare una cosa provala, ma prima di farlo studia. Non esistono i doni arrivati dal cielo, ok? Una persona, per come la vedo io, può essere predisposta, ok? Di più magari rispetto a un'altra, ma non esiste il dono. C'è una persona che scopre di avere un interesse particolare e una sua responsabilità per approfondire, studiare e capire di più su quel tema, su quell'argomento, ad evitare di fare disastri. Fatto sta che è capitato diverse esperienze, ad esempio una volta mi è capitato di... era un periodo dove mi capitava spesso di vedere una presenza in casa e questa presenza è stata in casa mia per molto tempo e mi è capitata di addirittura una volta riuscire a vederlo. Come me ne sono accorta? Me ne sono accorta perché ogni volta che io entravo in casa, aprivo la porta di casa insomma, entravo, chiudevo la porta di casa, arrivata in sala, sentivo nuovamente la porta chiudersi dietro di me. Allora la prima volta che capitava dicevo ma può essere, mi sono dimenticata di chiuderla, magari il vento l'ha richiusa 1, 2, 3, ma la quarta ho detto c'è qualcosa che non va, ok? Cioè ogni volta che io entro mi sento... una seconda volta qualcuno che richiude la porta dietro di me. Questo. Poi mi è capitato tantissime volte di trovare le cose in posti diversi, io le mettevo in un punto, le trovavo in altri posti, poi mi è capitato addirittura una volta di sentire proprio parlare. Lì è stato tremendo. Non è come quelle volte che capita che sei distratto o magari c'è veramente qualcuno in casa quindi magari dici... cioè non lo colleghi subito a un fenomeno paranormale, no? Quella volta ero proprio da sola, era un momento da sola, consapevole di essere sola e ho iniziato a sentire due o tre voci che parlavano tra di loro. Subito dopo un toffo dalla cucina, sono andata subito a vedere e non c'era assolutamente nulla e credetevi... vabbè... assurdo. Queste sono esperienze che mi capitavano spesso, cioè io ora ve la sto raccontando così perché ragazzi non mi posso raccontare esperienza come storia, passo 1, 2, 3... no, esperienze, ma magari esperienze così mi capitavano nell'arco di tre mesi, mi capitavano 4-5 volte anche. E in quella casa là io sono sicura che c'era una presenza perché appunto vi dicevo mi era capitato anche una volta di vederlo. Mi era capitato di vederlo dalla porta, io ero sempre in sala e con la coda dell'occhio... sapete quando vi sentite osservati ma non c'è nessuno? Quella sensazione proprio di essere osservati che ti spinge a girarti. Quella volta lì mi sono girata improvvisamente e ho visto... c'era la porta, ho visto l'ombra, cioè un'ombra che poi ve la posso descrivere perché ho visto... non so se era uomo o era donna, secondo me era uomo, ok? Aveva i capelli corti ricci ed era capelli scuri, ma il volto non l'ho visto, era un'ombra scura. Mi rendo conto che raccontare queste cose sembrano assurde perché molti di voi mi diranno ma come io non ho mai vissuto certe cose... raga è meglio, è meglio, fidatevi, è meglio. Soprattutto se certe cose non le conoscete, insomma non siete abituati a queste cose, meglio così. Ora ad esempio se dovesse capitarmi una roba del genere, cosa che mi è capitato e mi capita, poi vabbè sapete che io vado anche in indagine con Francesco del TPE e mi capita spesso di sentire, avvertire, ma ora è diverso, ma è proprio la mia consapevolezza è diversa. Ora certe cose le so ed è diverso. Rimane sempre lo spavento, no? Quando magari puoi sentire qualcosa, un rumore. Lo spavento è ovvio, è naturale che ci sia, ma non è più quella paura del non sapere. quella penso che sia terribile. Infatti è quello che mi capitava quando ero più piccola, quando non ero consapevole. Perché? Cos'è? Come mai succede questo? E poi che dire, andando avanti nelle mie esperienze che veramente sono talmente tante, ma anche ripetitive, perché ve l'ho detto, magari una certa esperienza mi capitava più e più volte. Un'altra esperienza che mi è capitata, diciamo un po' importante, era un periodo abbastanza pesante per me. Allora, io all'età di 17 anni ho perso mia madre. È stato un periodo veramente devastante per me. Ero piccola, avevamo un rapporto meraviglioso. Insomma, quindi tutto quello che era successo era un vero e proprio trauma. Ora ne parlo più, diciamo, tranquillamente, nonostante la cosa è sempre dolorosa. Cioè, chi ha perso qualcuno sa bene di cosa parlo, no? Poi, specialmente se si parla della propria madre. Era un periodo molto pesante, duro da affrontare. E proprio in quel periodo lì c'è stato l'inizio, se vogliamo, della mia trasformazione, no? Si dice che quando vivi un forte trauma, un forte dolore, è come uno scossone, no? Per l'anima. Quando avviene questo, almeno per me, quello è stato l'inizio del mio lungo percorso. Tutto iniziato da lì. Qui le mie esperienze paranormali si intrecciano con l'inizio del mio percorso spirituale, del mio cammino, della mia conoscenza, ok? Verso queste cose. E l'inizio non è stato per niente facile. Anzi, è stato devastante. Sappiamo tutti che comunque un percorso ha delle fasi. E quella per me era proprio l'inizio. Poi ci sono state altre fasi. Ho iniziato un nuovo percorso con altre consapevolezze. Poi mi sono di nuovo fermata. Il percorso è fatto step by step. Non c'è un inizio, un proseguo e una fine. Io sono l'idea che finché sia su questa terra il percorso è continuo. Tanti piccoli passaggi step, ok? Ora non mi addentrerei su questo perché sennò andrei troppo fuori l'argomento di oggi. Ma era per farvi capire che comunque era un momento particolare. Quei momenti lì solitamente si tende a vedere le cose in modo diverso, percepire le cose in modo diverso. Fatto sta che lì, ragazzi, io ho vissuto le peggiori esperienze paranormali. Le prime che mi sono capitate sono state per lo più quando io andavo a riposare. E si facevano vedere queste cose attraverso le famose paralisi che io le vivevo sempre. Cioè se io andavo a dormire il pomeriggio, se mi appisolavo la mattina, insomma a qualsiasi ora della giornata io mi appoggiavo su un letto, io avevo una paralisi. Ed ero delle paralisi assurde. Premetto che non ne ho mai sofferto, va bene, quello era un periodo molto stressante, per quello che ho voluto sottolinearlo. Però le ho vissute lì, ma le ho vissute poi per un bel po' di mesi. Poi si sono fermate, ho avuto altre esperienze dopo la mia prima bimba che ho avuto, per poi cessare completamente. Vabbè, morale che per chi comunque vorrà spiegare questa cosa in modo razionale, userà il contesto del dolore per spiegare queste paralisi. Però chi crede in altro sa che le paralisi molte volte sono dei veri attacchi. Portati proprio dal fatto che sei in un periodo energeticamente molto basso, le tue energie sono a terra, è il periodo perfetto per determinate entità attaccarsi a te, quindi nutrirsi. Vivono di quello, quindi ci sta, ok? Fatto sa che nulla, le mie prime paralisi sono state devastanti, io mi trovavo completamente bloccata e sentivo qualcuno che mi parlava sempre all'orecchio, mi parlava sempre all'orecchio ma io ero bloccata e non potevo fare assolutamente nulla. È stato terribile per certi versi perché quelle paralisi notturne era la prima volta che le sperimentavo e vi ricordo che le prime sono state tremende. Le vivevo sempre così, ovvero mi trovavo sempre come che qualcuno mi stringeva, io non potevo muovermi e mi sentivo sempre parlare all'orecchio. Tanto che io mi rendevo conto, infatti dentro la mia testa ripetevo delle cose che, insomma, sapevo una specie di, chiamiamola, preghiera, ok? Che dicevo dentro di me, per farvi capire quanto io ero consapevole di quello che stava capitando, ripetevo questa cosa dentro di me, fino a che sentivo che questa stretta lasciava la presa per poi lasciarmi andare. Dopo che io ripetevo questa specie di mantra dentro di me, queste entità si staccavano da me per poi lasciarmi andare. Io mi svegliavo, cioè mi svegliavo, io ero già sveglia, aprivo gli occhi, insomma, mi slegavo, ecco, preferisco dire così, e stavo malissimo, cioè sentivo addosso ancora quella presa, quella stretta. Le altre paralisi, chiamiamole così, sono state, poi, sono sempre state di un grado maggiore, perché io sono arrivata all'apice delle mie paralisi, questa ve la racconto, mi trovavo a letto un pomeriggio, che tra l'altro, voglio sottolineare una cosa, quando mi capitava che poi andavo in paralisi, ripeto, il pomeriggio, la mattina, la notte, quando capitava, ad esempio, come il pomeriggio, mi veniva come una sorta di sonno, mi veniva come una sorta di sonno e dovevo per forza andare a dormire, cioè come che qualcosa mi spingeva ad andare a dormire, ed era assurdo. Io, all'inizio, quando ero inconsapevole di queste paralisi, è che ero quasi spinta, ok? Quella volta lì, appunto, mi era capitato di andare, insomma, mettermi sul letto, riposare, non vedo nulla, perché non ho visto sagome, non ho visto ombre, non ho visto niente, però io non potevo muovermi, la temperatura della camera dove ero era, penso, sotto lo zero, perché avevo le mani fredde, i piedi freddi, cosa che poi, questo voglio precisarlo, una volta sveglia ce l'avevo ancora, avevo i piedi freddi, le mani fredde, l'ambiente era freddo ed era tutto chiuso. E praticamente io vedevo, perché vedevo bene, ma non potevo muovermi, ho iniziato a sentire i rumori di stoviglie dall'altra parte in cucina, rumori di stoviglie, poi io dormivo in un letto dove sopra c'è, avete presente il famoso letto a ponte? Ok, quindi c'è il letto sopra l'armadio. A un certo punto, con la coda dell'occhio, perché io avevo gli occhi semi aperti, vedo queste ante aprirsi e chiudersi sopra di me. Ragazzi, lo so che sembra assurdo, io vi racconto l'esperienza che ho vissuto, poi crederci o non crederci, o ragazzi è stata una paralisi del sonno e basta, io ve la racconto, poi fate voi. E fatto sta che anche quello che ho vissuto lì è stato terribile, perché poi quando mi sono svegliata è più quello che ho vissuto dopo, la sensazione che mi ha lasciato per molto tempo è stata assurda. Altre esperienze paranormali, ne ho avuta un'altra, questa è stata un po' più positiva, quella che io penso che sia stato più un contatto positivo, ok? Ero praticamente estesa, ad un certo punto mi sono sentita come che un'energia mi partisse dalla punta del piede, lentamente mi saliva su tutto il corpo, fino ad arrivare alla testa. Una volta arrivata alla testa, sento dentro di me una voce che mi dice qualcosa, una voce metallica, una voce diversa, non la chiamerei neanche voce, perché non era una voce, era strana, una melodia, ma che ho percepito fosse una voce. Mi diceva un qualcosa e me l'ha ripetuto per tre volte, e purtroppo non che non ricordo, non avevo proprio capito. L'unica cosa che sono riuscita a capire è che questa voce mi diceva hai capito, hai capito, cioè come che volesse che in un qualche modo sentissi quello che mi stava dicendo, però io non riuscivo a capire, mi ha detto qualcosa, ma non so. Quella volta lì mi sono sentita benissimo, perché ecco lì è stato un momento dove nonostante ho vissuto questa esperienza stranissima, una volta che mi sono resa conto stavo bene, cioè so che era stato un contatto positivo, e lì lo capisci. Infatti, quello dico io sempre, quando sei in una situazione di stranezza, di percezione, dico ma mi sento strana, non capisco se quell'esperienza è positiva o negativa, basta mettersi lì e sentire la propria energia, come ti senti, cosa provi dopo aver sentito quella cosa, è importante, questo ti fa capire che tipo di esperienza, o tipo di entità si è avvicinato a te, questo è importante. Ad esempio, quando si prova, che ne so, ci arrivano delle sensazioni del tipo, ma presentimento che magari una cara persona che non c'è più vuole comunicare, ma si è insicuri perché dice, ma non so se lei è un'entità negativa, è facile capirlo. Lo sentite proprio dall'energia che lasciano. Detto questo, che posso dire? Io esperienze paranormali ne ho avute veramente tante, tante amici, e ognuna di loro mi hanno lasciato alcune, mi hanno lasciato solo terrore, ma altre mi hanno lasciato anche tanti insegnamenti, e col tempo. Ecco, diciamo che nell'età adulta mi è capitato spesso, anzi, a me capita, capita tuttora, di sentire, percepire. Ad oggi gestisco la cosa un po' in modo diverso. Ecco, voglio dire un'altra cosa, e non l'ho detto prima, riguardo il fatto che fin da piccola sono sempre stata contornata dalla magia, dall'esoterismo, dalla spiritualità. Sono sempre stata curiosa verso questo mondo, tanto è che quando sono cresciuta ho voluto approfondire. E lì c'è stato il mio grande sbaglio. Quella era curiosità misto in genuità. Infatti, quando ho potuto fare diverse cose, ho iniziato a farle in modo sbagliato. Ho preso i tarocchi, ho iniziato a leggere le carte, ho iniziato a fare tante cose, senza conoscere le regole, senza sapere determinate cose, e ne ho pagate le conseguenze, amici. Ed è per questo che io, in primis, smettendoci la faccia, dico sempre, prima di fare qualcosa, approfondite, studiate. Ogni cosa in magia ha una regola. Nell'universo c'è il dare, c'è il ricevere. E soprattutto ci sono i pro e i contro. Quindi ripeto che, appunto, è importante la conoscenza. Non basta il dono. Quando ci si rende conto che si è più propensi, è doveroso, è importante per se stessi, ma anche per gli altri. Perché non c'è da dimenticare che, quando si fa qualcosa a qualcuno, anche come una stesura di tarocchi, se le cose non vengono fatte bene, può star male anche la persona che riceve la lettura di tarocchi, in questo caso. Ci sono delle regole che bisogna attuare quando si fanno queste cose. Perché veramente si possono innescare delle cose veramente pericolose. Quindi, detto questo, io avevo intrapreso determinate cose, non avendo la conoscenza, non avendo ancora consapevolezza di certe cose, e ho avuto delle esperienze veramente tremende. Mi è capitato di far arrivare un'entità attraverso, insomma, una stesura di tarocchi, non correttamente aperta, non correttamente chiusa, perché, per quanto può sembrare banale, perché ormai ci si vede ovunque, sui social, persone che fanno stese interattive a destra e a sinistra. Sembra una cosa talmente banale e scontata che la prima cosa che ti viene è dire ma sì, mi compro un mazzo di tarocchi, butto sul tavolo e leggo. Non funziona così. Assolutamente no. Ci sono delle regole. Ci sono delle regole di apertura, di chiusura, purificare l'ambiente se stessi, le carte stesse, purificarle prima, dopo. Ci sono una mariade di cose che, ripeto, non sto qua adesso a dire perché non è il video giusto, ok? Però, questo per dirvi che non è così come si vede. Spesso non ne parla nessuno di questo, ma forse perché la maggior parte delle persone lo fanno per gioco, non sapendo che ci sono delle responsabilità. Cioè, in qualsiasi cosa fai nella vita, in qualsiasi cosa, c'è sempre una responsabilità da prendersi, ok? In questo caso, quando si usa la divinazione, sai che vai a toccare delle energie particolari. Detto questo, tornando alle esperienze, perché sennò faccio sempre dei giri in mezzo, perdonate amici, questo giro non mi sono preparata assolutamente nulla e si vede. Sto parlando così come posso parlare con un'amica, con tanto di errori, io non so cosa uscirà fuori, ma non me ne frega. Siccome è una cosa che riguarda me, non ho voluto assolutamente preparare nulla. Così come viene. Detto questo, quando io ho iniziato a fare, mi sono interessata a queste cose e potevo farle, ho fatto tanti di quei casini che voi non mi potete immaginare. Infatti avevo, appunto, attraverso stesure di tarocchi, perché io al tempo facevo solo quello, ho fatto entrare chissà quale strane energia attraverso un portale, perché ragazzi, diciamolo chiaramente, quando si apre una stesura di tarocchi per chiedere del futuro, ovviamente, a chi si chiede, cioè bisogna rendersi conto che si va a lavorare con delle energie, energie che ti rispondono. Di conseguenza si deve aprire una porta, un portale. Da quel portale non si sa mai cosa può entrare, ok? Ecco, in quel caso da me è entrato qualcosa che non doveva entrare. Essendo che io stessa, ai tempi, non sapevo cosa stavo facendo, ho fatto un casino. Ho fatto entrare questa entità in casa mia e ho avuto diversi problemi. Sono stata fortunata quella volta perché da lì a poco poi mi sarei trasferita, però mi dispiace per chi ha preso poi quella casa, però ragazzi, non so cosa dire, gli errori si fanno e l'importante è rendersene conto. Proprio questo è la mia missione, far rendere conto alle persone che veramente non si gioca con certe cose, ma non perché uno devi dire devi aver paura a non toccarlo. Io sono la prima a dirlo. Prendete con mano quello che volete e guardatelo, fatelo, ma l'importante è studiare. Studiare veramente. Non studiare solo sul libro, ma proprio andare e approfondire l'argomento sotto diversi punti di vista. Quindi mi raccomando, non fate la stessa cosa che ho fatto io. Detto questo, quelle esperienze che ho vissuto io sono state tremende, perché sono stati momenti che ho sentito addirittura vibrare il letto dove ero. Una volta mi è capitato di addirittura veder muovere il lampadario, sentire sempre delle voci strane, sussurri strani, sentirmi sempre osservata. e addirittura lì una volta è successa una cosa molto brutta, perché quella volta lì che fece entrare questa entità per sbaglio, per mio grande sbaglio, purtroppo se l'era presa col mio gattino piccolino, il più piccolo che c'era in casa. E mi ricordo che dal nulla noi stavamo mangiando e a un certo punto sentiamo il gatto che tipo piange, grida, piange. Non c'era nessuno, cioè io avevo un altro gatto più grande, ma non stavano assolutamente giocando né nulla, tant'è che noi ci siamo girati perché era lì praticamente, eravamo in sala tutti insieme. Mi giro, guardo e faccio che è successo? Niente, questo gattino era tipo spaventatissimo, guardavo un punto indefinito ed era terrorizzato. Non capisco ma cosa era successo, a un certo punto li guardo la coda e la punta della sua coda era letteralmente piegata. Lì per lì io ho pensato subito che stesse giocando con il gatto, si fosse... ma no, perché il mio gatto era dall'altra stanza, lui era lì da solo, non si capisce come abbia fatto perché era lì sul divano, non stava neanche giocando né nulla, cioè all'improvviso ha urlato, l'abbiamo guardato e aveva la coda piegata in fondo. L'abbiamo portato dal veterinario, infatti ci ha detto questo può capitare se gatti tra di loro giocano e magari può capitare che si fa un male. E' rimasto un mistero perché non stava giocando con nessuno, era da solo, era sul divano ed era proprio quel periodo che purtroppo è successa quella cosa in casa mia e da lì nulla, l'abbiamo un po' curato e insomma, però è stato tremendo perché io ho subito ricollegato a quello, anche perché poi il mio istinto mi ha riportato subito a quello e quindi non avevo dubbi. Fatto sta che poi nulla, lì decisi di lasciare tutto, talmente dalla paura ho mollato tutto perché non ho detto mamma mia cosa ho combinato, ho fatto del male, mi sentivo pure in colpa per il gattino. Morale della favola, da lì è iniziato il mio percorso invece verso la conoscenza sotto sotto questi aspetti. Mi sono voluta avvicinare molto di più al mondo spirituale esoterico, approfondire diverse tematiche, anche quelle che mi spaventavano un po' di più come ad esempio demoni, capirne di più sugli spiriti, le tipologie di spiriti e tutto quello che è del mondo paranormale. E da un anno a questa parte ho intrapreso anche un nuovo percorso ovvero andare in indagine per fare esperienza, andare su luoghi abbandonati proprio per fare esperienza. Vi dico che ho passato tanti anni nella teoria, ho studiato molto, ho approfondito molto, ma più che altro per me stessa, per darmi delle risposte per quanto riguarda il mio passato e anche persone che hanno fatto parte del mio passato. Avevo bisogno di risposte, avevo bisogno di capire e ho capito tanto per quanto mi riguarda. Ma appunto è arrivato quel giorno da dire ma chissà quante persone là fuori sono, sono, saranno nella mia stessa situazione di qualche anno fa. Quindi mi sono detta perché non buttarmi e raccontare, far vivere il paranormale alle persone ma con la verità, quindi andando a parlare di cose reali, no? Le storie che vi racconto io non sono solo storie perché chi mi segue sa bene che in ogni storia che racconto dico sempre un qualcosa in più che non è mai a caso, ok? Non mi piace essere chiamata narratrice di storie paranormali perché non sono una narratrice, sono semplicemente una ragazza che si siede qui e racconta una storia paranormale. Dietro sì, ci sono molte ricerche e una preparazione di video diversa come ad esempio quella di oggi ma si capisce. Questa di oggi è stata più una chiacchierata tra di noi che spero di fare più sovente. Dentro i video che faccio io cerco sempre di lasciare qualche insegnamento che per me sono stati utili che a mia volta ho imparato da altri dedicato molto tempo allo studio a capire e quindi mi piace poterli passare anche agli altri. Che dire amici questo video è durato tantissimo non so come verrà fuori io spero che vi sia piaciuto se avete domande fatemi pure qua sotto nei commenti e ne approfitto di questo video per aprire un nuovo format anzi che spero di riuscire ad aprire questo format infatti sto pensando di realizzare questo format e raccontare le vostre esperienze paranormali le vostre storie per mandarmi la vostra storia paranormale e per chiedere tutte le info e capire come funziona vi invito a scrivermi un'email al mio indirizzo ve lo lascio giù in descrizione se avete dei dubbi scrivetemi tranquillamente perché spero vivamente di riuscire a realizzare questo format che mi sta veramente a cuore perché ripeto io penso che tutti almeno una volta nella vita abbiano vissuto un'esperienza strana misteriosa paranormale chiamatela come volete e magari non si ha il coraggio di raccontarla perché si ha paura di essere giudicati guardate me oggi ci ho messo la faccia non mi faccio problemi c'è chi crede c'è chi non crede l'importante essere sinceri io oggi lo sono stato con voi e spero che l'abbiate capito detto questo ci vediamo al prossimo video sempre qui sul mio canale con tante altre storie misteriose mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto ciao 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 ciao